Vai, io vado e faccio anche questo. Sei pronto, Dani? No! Allora, commento a freddo prima del concerto. Commento a freddo? Come era il sound check? Era perfetto il sound check. Sentivo tutti i volumi qua, perfetto. Mi manca queste riprese qua. No, no, oddio! Oddio, è tutto basso, è tutto basso. Chiamiamo Maria. Il fonico di che mangia? Lui mi fa la cacela, caraviglia. Il pezzo. Inquadriamo anche Bassa. Bassa, Bassa, sei bello. Bassa, sei pronto. Sei pronto per lo sound sul naso? Solito. No, la stai da solare, è più così. Non è assolutamente vicensivo. No, la stai da solito. No, la stai da solito. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.